Per uscire appunto dottore da questa crisi che ormai ci attanaglia da diverso tempo, la cura, una ricetta? La prima cosa è eliminare tutti gli aspetti burocratici che sono stati inseriti nella speranza di combattere l'evasione. Non solo non hanno dato risultati soddisfacenti ma addirittura hanno da una parte creato un freno enorme all'economia e sostanzialmente non si verifica bene che la grande evasione avviene al nord con delle fatturazioni manipolate, criptate. Nel senso che se ha una commessa di una cifra rilevante si fattura la metà e d'accordo con colui quale riceve la merce, riceve l'aspetto ordinato, la metà rimane all'estero. In particolare rimane di Svizzera e allora ecco non sono sempre i meridionali come spesso veniamo tacciati di essere gli evasori per antonomasa, gli evasori per convincimento. Ecco la grande evasione è al nord, la grande evasione si è concretizzata con un rientro di 104 miliardi con lo scudo fiscale che rappresenta un ventesimo di tutti i flussi finanziari che stanno all'estero. Allora bisognerebbe colpire quel tipo di evasione con l'accordo con degli stati extra europei, in particolare con la Svip e sollevare e abolire gli aspetti burografici. Aumentare l'aspetto di transazioni in contante è troppo basso, non credo che metterla a 2.500 euro che crea un'evasione enorme. Si parla di carte di credito che non si può spendere, non so la data ancora di attuazione, se ci sarà l'attuazione, non si può spendere 50 euro in contante ma bisogna farlo con la carta di credito. Un'altra batosta enorme ai consumi. Ma perché una persona che ha operato per anni, per decenni, correttamente, onestamente, deve poi eventualmente dar conto del movimento che ha effettuato? Allentiamo la burocrazia, allentiamo queste norme, lacci, lacciole che sono messe all'operatività quotidiana e credo che sarà il primo passo per un vero rilancio.